Passo la parola a Denzo Collotti. Denzo Collotti si parlerà della persecuzione raziale nella Repubblica Sociale Italiana e sotto l'occupazione tedesca in Italia. L'armistizio dell'8 settembre del 1943 fu il punto d'arrivo della profonda crisi che aveva colpito il regime fascista e la società italiana sotto i colpi delle sconfitte militari che suggellarono l'incauta decisione del regime di gettare l'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Contrariamente alle aspettative della maggioranza della popolazione che dallo scioglimento dell'alleanza con la Germania nazista sperava di conseguire la fine delle ostilità e il rapido raggiungimento della pace l'armistizio vite l'Italia spezzata in due di venire teatro di una nuova cruenta fase della guerra. Allo sbarco delle forze anglo-americane nel Golfo di Salerno nelle ore immediatamente successive alla resa del dominio pubblico dell'armistizio fece riscontro nel resto della penisola nella quale erano già presenti i forti contingenti di unità della Wehrmacht il rapido dispiegamento delle forze tedesche e l'occupazione della maggior parte del territorio nazionale. Salvo episodi sporadici di resistenza le forze italiane furono rapidamente disarmate dalle unità tedesche e la maggior parte dei militari che non riuscirono a sottrarsi alla cattura fatti prigionieri internati nei campi di prigionia della Germania nazista all'interno del Reich o in Polonia dove fu peraltro contestata loro la qualifica di prigionieri di guerra. L'Italia si ritrovò così risospinta nella morsa della guerra che questa volta si svolse direttamente sul corpo stesso del nostro paese stretto tra le armate anglo-americane che avanzavano dal sud e le forze tedesche decise a difendere sul territorio italiano le vie di accesso al Reich. All'inizio di ottobre del 1943 dopo la liberazione di Napoli che fu anche protagonista di un'epica insurrezione popolare contro i nazisti l'Italia centro-settentrionale era sotto il controllo della Wehrmacht mentre nelle regioni meridionali liberate si organizzava il cosiddetto Regno del Sud ossia la parte dell'amministrazione che era rimasta sotto il controllo del governo Badoglio costituito dalla monarchia il 25 luglio 1943 e che era anche il firmatario delle condizioni dell'armistizio e quindi l'interlocutore diretto come legittimo governo italiano degli alleati anglo-americani. A pochi giorni dall'armistizio Benito Mussolini che era stato arrestato dal governo Badoglio fu liberato da paragadutisti tedeschi e condotto in Germania. La liberazione di Mussolini assunse agli occhi di Hitler come capo della coalizione dell'Asse delle potenze fasciste e naziste un forte valore simbolico. I legami personali oltre che politici che lo univano a lui fece maturare in Hitler la volontà di utilizzare Mussolini per dare sul piano interno e soprattutto internazionale la prova che l'alleanza delle potenze dell'Asse sopravviveva nonostante l'armistizio e la secessione dell'Italia dalla guerra contro il parere degli stessi capi militari tedeschi che avrebbero preferito fare dell'Italia puro territorio di conquista senza vincoli di carattere politico. Il 24 settembre fu annunciata la Costituzione nell'Italia occupata dai tedeschi di un nuovo governo repubblicano fascista presieduto da Benito Mussolini. Fu questa la Repubblica Sociale Italiana o Repubblica di Salò dal nome della località sul lago di Garda nella quale fu insediato il nucleo rappresentativo del nuovo governo che sin dalla sua forma istituzionale, quella repubblicana intendeva contrapporsi al legittimo governo del Sud e dare vita nuova al fascismo che era stato spazzato via il 25 luglio 1943 e riportare l'Italia nella guerra a fianco della Germania nazista. In effetti, il fascismo che risorgeva all'ombra delle armi tedesche non era una semplice riedizione del fascismo del ventennio. La nuova Repubblica di Salò era un compromesso tra il vecchio fascismo e la volontà di Mussolini e dei suoi collaboratori di rinnovarlo radicalizzando talune istanze, per esempio sul piano sociale una volta avvenuto il distacco dal fascismo di importanti forze sociali e politiche prima fra tutte le grandi forze economiche e la Chiesa Cattolica che insieme all'istituto monarchico ne avevano sostenuto la dominazione nel ventennio. Faceva parte della radicalizzazione del nuovo fascismo di Salò il forte spirito di vendetta contro i presunti traditori del 25 luglio che saranno processati e fucilati con in testa Galeazzo Ciano all'alba del 1944 e soprattutto dopo un iniziale accenno di conciliazione l'intransigenza neosquadristica contro chiunque avversasse la ridizione del fascismo nella nuova veste repubblicana nella condizione, efficacemente definita dallo storico tedesco Klinghammer di alleato occupato. Alla finzione infatti della continuazione dell'alleanza faceva riscontro la realtà di una occupazione che mirava soprattutto a convertire la perdita del contributo militare dell'Italia in un vantaggio per l'economia di guerra tedesca con lo sfruttamento del potenziale industriale e agricolo dell'Italia nel momento in cui al Terzo Reich venivano progressivamente meno i territori dell'est europeo ricchi di materie prime agricole e industriali e soprattutto di quella materia prima vera ricchezza per l'Italia che era rappresentata dalle riserve di mano d'opera di cui la Germania era ormai famelica alla luce delle pesanti perdite subite nella guerra. La Repubblica di Salò serviva ai tedeschi anche come tramite nei confronti della popolazione italiana. Alla sopravvivenza di un'amministrazione italiana era affidata infatti la capacità esecutiva degli ordini della potenza occupante. La Repubblica di Salò era dotata di una limitata autonomia. Si può parlare di una sua limitata sovranità nel senso che essa non poteva comunque agire in contrasto con le autorità d'occupazione né proporzi obiettivi che non ricevessero il loro consenso come avvenne per esempio nel caso dei progetti di socializzazione con i quali i fascisti di Salò si proponevano di fare breccia verso la classe operaia. Altrettanto si verificò a proposito del progetto di Mussolini di tornare sul fronte di guerra con un forte esercito italiano. Un progetto che non incontrò il consenso del Reich anzitutto perché i tedeschi non si fidavano di una forza armata italiana che fra l'altro avrebbe dovuto essere armata da loro stessi. In secondo luogo perché essi non stimavano gli italiani come soldati ma come lavoratori dei quali avevano estremo bisogno. Oltre a limitare la sovranità italiana per il semplice fatto che ogni disposizione delle autorità della Repubblica Sociale dovevano ricevere l'approvazione delle autorità tedesche che si sovrapponevano ai rispettivi organismi italiani per cui in ogni caso spettava l'autorità d'occupazione l'ultima parola in ogni campo il Terzo Reich operò un'ulteriore limitazione della sovranità della Repubblica Sociale sottraendo alla sua giurisdizione due importanti settori territoriali vale a dire le cosiddette zone d'operazione situate lungo il confine nord e nord orientale del vecchio regno d'Italia comprendenti la zona di operazione delle prealpi con le province di Trento, Bolzano e Belluno e la zona d'operazione litorale adriatico comprendente con la provincia di Udine staccata dal Veneto le vecchie province della Venezia Giulia Trieste, Gorizia, Pole e Fiume e la provincia di Lubiana che era stata annessa al Regno d'Italia nell'aprile del 1941 ufficialmente giustificate con motivazioni di ordine militare data la loro collocazione strategica anche ai fini dei collegamenti con i fronti meridionale e balcanico dello schieramento tedesco le zone d'operazione rentravano in realtà in un più ambizioso progetto politico che in caso di vittoria della Germania sarebbe sfociato nella loro annessione diretta al Grande Reich rette nel frattempo da un'amministrazione civile tedesca che si presentava come prolungamento delle vicine amministrazioni del Tirole e della Carinzia la zona delle prealpi e litorale adriatico rappresentarono un'amputazione assai rilevante del territorio su cui avrebbe dovuto governare la Repubblica sociale e dal punto di vista politico un'assai forte lesione della sua dignità e del suo prestigio la nuova edizione del fascismo di Salò nel momento in cui ribadiva la solidarietà nella guerra con gli alleati del patto tripartito la Germania e il Giappone ribadiva di fatto la comunanza degli obiettivi con le altre potenze fasciste nel progetto planetario di conquista del mondo che prevedeva la dominazione dello spazio europeo e possibilmente anche di quello africano da parte delle potenze dell'asse e la dominazione dello spazio asiatico da parte del Giappone così facendo il fascismo di Salò mutuava in un processo di nazificazione i principi del nuovo ordine europeo che la Germania nazista aveva tentato di imporre in tutti i paesi invasi dalla Wehrmacht ma che non aveva potuto attuare se non parzialmente anche perché si era scontrata praticamente dappertutto con le forze della resistenza il ruolo della Repubblica Sociale rientra a giusto titolo tra quello delle forze collaborazioniste ossia di quelle forze che accettarono la subalternità alla Germania nazista e che funzero nei confronti delle popolazioni dei territori occupati da intermediari ed esecutori degli ordini e della volontà degli occupanti il collaborazionismo fu un fenomeno europeo che non espresse soltanto il volto di intermediari o di governi fantoccio imposti dagli occupanti ma anche la volontà di gruppi locali e nazionali pienamente consenzienti con il progetto di nuovo ordine europeo portato avanti dai nazisti non fu espressione soltanto dell'opportunismo di forze e di uomini che speravano di trarre profitto da un'eventuale vittoria della Germania nazista ma anche espressione di forze fasciste nazisteggianti presenti o latenti nei diversi paesi dalla Francia alla Norvegia che erano animate da propositi di vendetta contro vecchie tradizioni democratiche come nel caso della Francia o da ideali razzistici di fedeltà alla razza pura come nel caso dei razzisti olandesi piuttosto che di quelli norvegesi l'ideologia antidemocratica antibolshevica dei combattenti e dei fautori del nuovo ordine europeo non si nutriva soltanto di questi stereotipi propagandistici collante fondamentale delle diverse componenti che si aggregarono sotto la guida della Germania nazista fu il razzismo segnatamente nella sua versione antisemita ma non solo se si pensa all'odio di razza contro le popolazioni slave la Repubblica di Salò non fece eccezione a questa regola come scriveva il 18 novembre 1943 il Corriere della Sera riecheggiando il manifesto di Verono sia la magna carta del fascismo repubblicano cito la forza oscura e rapace che riassume nel suo nome e nella sua organizzazione i nefasti del capitalismo plutocratico il giudaismo viene senza remissione colpita gli appartenenti alla razza ebraica sono considerati stranieri e in questa guerra appartenenti a nazionalità nemica tutti sanno infatti che si sono l'occulto ma spesso palese legame della coalizione anglo-americana sovietica anche in questa riesumazione del razzismo antiebraico che il fascismo aveva ufficializzato sin dalle leggi del 1938 si metteva in evidenza non soltanto uno dei tratti della nazificazione cui accennavo prima ma anche uno dei fattori che insieme ai molti elementi di continuità con il fascismo del ventennio sottolineava anche i fattori di novità e di discontinuità del fascismo della Repubblica sociale se tra gli elementi della cosiddetta nazificazione dobbiamo considerare la rifondazione del partito fascista uscendo dalla logica burocratica che era prevalza negli anni del regime per farne strumento neosquadristico animato da un ososperato volontarismo sino agli estremi della sua militarizzazione e la ristrutturazione dello Stato ricercando la fusione di amministrazione e partito secondo appunto un modello assai prossimo alla strutturazione dello Stato nazista accanto al di sopra di essi dobbiamo considerare il razzismo come fattore costitutivo della Repubblica sociale e non come semplice e laterale connotato il messaggio antiebraico della Repubblica sociale rappresentò un fattore di continuità con l'antisemitismo di Stato degli anni precedenti l'armistizia ma costituì anche un fattore di discontinuità per il salto di qualità che fu impressa la persecuzione di fu continuità negli uomini e nelle strutture uomini che avevano avuto una parte di primo piano nella fase di persecuzione degli ebrei prima dell'armistizio del 1943 ritornarono a posti di responsabilità anche nella seconda fase quella che fornì direttamente ai tedeschi i convogli per la deportazione nei campi di sterminio Guido Buffarini Guidi ministro degli interni della Repubblica sociale Giovanni Preziosi chiamato nel marzo del 44 a reggere l'ispettorato per la razza e demografia Giorgio Almirante tra i principali funzionari del Ministero della Cultura Popolare per fare solo alcuni dei nomi più noti le strutture concentrazionare create dal regime fascista prima dell'8 settembre come il campo di concentramento di Bagno a Ripoli nei pressi di Firenze o quello di Servigliano nelle Marche o altri ancora tornarono a svolgere la loro funzione di raccolta degli ebrei in un contesto su cui incombeva ora la deportazione la sorte degli ebrei era ben nota a Mussolini Himmler in persona lo aveva informato nell'ottobre del 1942 della conferenza del Vance e del Gennaio che aveva coordinato la loro deportazione da ogni angolo dell'Europa caduta con l'armistizio ogni riserva della sovranità italiana con il manifesto di Verona gli ebrei anche italiani e non solo quelli stranieri che avevano sperato di trovare in Italia un rifugio sia pure precario verano privati con la cittadinanza di qualsiasi tutela non solo politica ma anche giuridica e virtualmente consegnate ai tedeschi prima ancora della loro fisica espulsione dalla società italiana cominciò nell'area del territorio italiano non liberato dagli angloamericani la caccia agli ebrei soltanto nel caso della razzia nel ghetto di Roma del 16 ottobre del 1943 che si concluse con la deportazione ad Auschwitz di oltre un migliaio di ebrei la polizia nazista operò da sola nella generalità degli arresti in altri contesti i reparti tedeschi furono accompagnati e assistiti da agenti delle diverse polizie italiane a conferma che senza il determinante apporto dei collaborazionisti i tedeschi da soli non avrebbero potuto realizzare in Europa la soluzione finale degli ebrei furono autorità italiane che fornirono ai tedeschi le liste degli ebrei censiti nel 1938 conservate e aggiornate nei comuni o nei cosiddetti centri di studio della questione ebraica nuclei da cui si dipartiva la capillare propaganda dispiegata dal regime fascista ma anche veri e propri centri di delazione l'antisemitismo venne posto al centro dell'orizzonte politico della Repubblica Sociale esso fu al centro della lettura che i neofascisti di Salò diedero degli avvenimenti del 25 luglio che prelusa l'armistizio lungi da riflettere sulle cause interne al fascismo stesso che avevano portato alla disfatta militare alla dissoluzione del regime essi si affannarono a darne la colpa alla congiura occulta del giudaismo internazionale interno alimentando quel clima da congiure di sospetto che caratterizzò l'atmosfera politica della Repubblica Sociale poco ebbe a che fare la rivendicazione del carattere spirituale di un antisemitismo italiano come specificità che avrebbe dovuto distinguerlo da quello biologico dei nazisti con la pratica messa in atto dalla Repubblica Sociale rispetto alla fase anteriore al 1943 di persecuzione dei diritti ebbe inizio adesso per dirla con Michele Sarfatti la persecuzione delle vite degli ebrei ai quali fu semplicemente misconosciuto il diritto di esistere mentre gli occupanti tedeschi insediavano responsabili per la questione ebraica nelle principali città italiane a partire dal novembre del 1943 la Repubblica Sociale prese l'iniziativa per dare alla propria politica razzista una nuova svolta dal punto di vista giuridico e dal punto di vista della materiale attuazione della soluzione finale ai principi programmatici già citati del manifesto di Verona fecero seguito concrete misure legislative di polizia che inasprivano tutte le precedenti disposizioni e ponevano le premesse non già per la segregazione totale degli ebrei dalla società italiana ma per la loro stessa distruzione fisica in taluni casi le autorità italiane anticiparono perfino le misure delle autorità tedesche fra l'altro mentre i tedeschi procedevano senza troppo scalpore a deportare gli ebrei per i fascisti additare gli ebrei come nemici era un motivo propagandistico forte quasi a rendere tangibile la presenza degli ebrei come traditori e tarlo roditore della coesione nazionale che la propaganda additava peraltro come una minaccia occulta in sintonia con il fascino dell'occulto che tanta attrazione suscita nell'immaginario collettivo sino alla metà di novembre del 1943 l'attività antiebraica della Repubblica Sociale non ebbe forte visibilità mentre da parte delle forze tedesche erano già venuti episodi di stragi per esempio sul Lago Maggiore e le prime razzie di ebrei da Merano in misura ancora limitata da Trieste ma soprattutto come già ricordato da Roma più tardi da Firenze il 30 novembre 1943 l'ordine di polizia numero 5 del ministro dell'interno Buffarini Guidi annunciò la svolta radicale e l'avvio di una sistematica caccia agli ebrei quest'ordine stabiliva infatti l'obbligo di rinchiudere tutti gli ebrei in campi di concentramento che avrebbero dovuto essere istituiti in ogni provincia ad eccezione degli anziani al di sopra di 70 anni con la cessazione di ogni eccezione quali quelle che erano state fissate con le cosiddette discriminazioni con le leggi del 1938 si affermava cioè un maggior rigore con il venir meno di ogni deroga salvo il rispetto per i misti figli cioè di matrimoni fra ebrei e non ebrei che fu stabilito da legge ma che di fatto all'atto delle deportazioni fu largamente disatteso come fu disattesa l'esclusione degli anziani dalla traduzione in campo di concentramento ai campi di concentramento già assistenti in Italia prima dell'armistizio altri se ne aggiunsero l'intero territorio sotto controllo della Repubblica sociale avrebbe dovuto essere coperto da una fitta rete di campi di concentramento se ciò non avvenne fu perché la Repubblica di Salò non ebbe il tempo di allestirli soprattutto nelle aree in cui le operazioni belliche e la resistenza dei partigiani contesero alla Repubblica sociale il controllo del territorio dopo l'arresto generalmente ad opera dei diversi reparti della polizia di Salò guardia nazionale repubblicana bande autonome supersti di tenenza dei carabinieri o altro tipo di polizia gli ebrei arrestati e tradotti nei campi di concentramento passavano sotto il controllo dei tedeschi i quali per conto loro provvedevano anche autonomamente con unità miste di tedeschi italiani a catturare gli ebrei dei circa 45.000 ebrei italiani e stranieri che si trovavano sul territorio italiano alla data dell'armistizio tenendo conto che alcune migliaia erano già immigrati dall'Italia dopo il 1938 oltre 8.000 compresi gli ebrei delle isole del Dotecaneso allora sotto sovranità italiana furono deportati generalmente ad Auschwitz ma non solo e di essi non fece ritorno neppure il 10% i loro nomi si trovano ricostruiti a cura del centro di documentazione ebraica contemporaneo nel monumentale libro della memoria a cura di Liliano Picciotto ma di molti ebrei soprattutto stranieri deportati e scomparsi non si potrà ricostruire mai l'identità sono scomparsi nel nulla inghiottiti dalla macchina dello sterminio se molti ebrei riuscirono a sfuggire alla cattura si deve al fatto che soprattutto nelle prime settimane dopo l'armistizio in cui affluirono in Italia il numero imprecisato anche molti ebrei che fuggivano dalle zone d'occupazione abbandonate dall'Italia i più consapevoli dei rischi che correvano con l'arrivo della Wehrmacht riuscirono a trovare rifugi in zone appenninico periferiche con l'aiuto di organizzazioni ebraiche di autosoccorso o di comunità ed enti ecclesiastici oltre che di semplici privati nelle città e nelle campagne mossi da sentimenti di solidarietà o in base alle più diverse motivazioni non poche famiglie ebraiche affrontarono anche i rischi di lunghe e pericolose trasferte in aree non controllate dei tedeschi come per esempio in Svizzera alla prima fase della raccolta in campo di concentramento che già di per sé significava la perdita della libertà personale e uno stato di reclusione fecero seguito all'inizio di gennaio del 1944 i provvedimenti che li privavano della possibilità di detenere qualsiasi bene economico per uso produttivo o semplicemente di carattere personale il decreto di Mussolini del 4 gennaio 1944 avvocava infatti allo Stato tutti i beni patrimoniali degli ebrei e li devolveva all'amministrazione di un apposito ente per la loro gestione e liquidazione demagogicamente l'operazione serviva a denunciare lo strapotere economico degli ebrei a denunciare il carattere di sfruttatori e rapinatori della ricchezza nazionale e a mistificare la razzia dei loro beni con l'assegnazione di questi ultimi alle vittime dei bombardamenti aerei angloamericani e agli sfollati l'attuazione della spoliazione dei beni ebraici diede luogo ad un'infinita serie di malversazioni furti illeciti arricchimenti da parte dei funzionari che effettuavano le operazioni di sequesto a contrabbando soprattutto nel caso delle opere d'arte una categoria a cui fu posta particolare attenzione dal punto di vista della sottrazione ai legittimi proprietari con enorme ritardo nel 1998 il governo italiano ha istituito una commissione sotto la presidenza dell'onorevole Tina Anselmi cito per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati il rapporto generale presentato dalla commissione Anselmi nell'aprile del 2001 al di là della constatazione dei ritardi intervenuti nell'opera di reintegrazione dei beni ebraici e della disomogeneità dei comportamenti dei poteri dello Stato fornisce un quadro impietoso delle ruberie e delle malversazioni cui si prestò l'esproprio dei beni ebraici in un contesto di diffuso arbitrio e di diffusa corruttela che coinvolse rapaci privati e pubblici funzionari animati da scarso nullo senso dello Stato e dall'interesse prioritario al proprio arricchimento La persecuzione non cessò neppure quando era già avvenuta la deportazione della maggioranza degli ebrei catturati Nel progetto di costituzione della Repubblica Sociale peraltro mai varato era stato previsto di codificare la condizione di minorità giuridica e di inferiorità razziale degli ebrei elevandone e cioè la loro discriminazione a rango costituzionale tra gli ultimi atti della Repubblica Sociale in data 16 aprile 1945 quindi 15 giorni prima dal crollo finale un decreto legislativo disponeva lo scioglimento formale delle comunità di fatto peraltro già totalmente stromesse e la confisca dei loro patrimoni quasi a simboleggiare l'ossessione antisemita di cui si era nutrita la Repubblica neofascista sul suolo della penisola furono allestiti quattro campi principali destinati al concentramento degli ebrei come campi di transito verso la deportazione in direzione dei campi di sterminio essi furono insediati nelle località di Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo e fu questo il campo che ebbe la vita più breve tra il settembre e il novembre del 1943 di fossoli nei pressi di Carpi in provincia di Modena fu questo il principale dei campi di transito per la deportazione degli ebrei più di metà di tutti gli ebrei deportati dall'Italia transitò da fossoli fu in funzione dal dicembre del 1943 all'agosto del 1944 a questa data la funzione di fossoli fu trasferita al nuovo campo di Bolzano Gries che funzionò dall'estate del 1944 alla fine di aprile del 1945 infine la risiera di San Zabba con la quale siamo arrivati a trattare del litorale adriatico la risiera di San Zabba fu il campo che ebbe maggiore continuità operativa dall'autunno del 1943 alla fine di aprile del 1945 alla vigilia della liberazione di Trieste esso fu l'unico campo allestito in territorio italiano dotato di forno crematorio esso non fu prioritariamente campo di sterminio per ebrei lo fu per alcune migliaia di partigiani e antifascisti italiani e slavi per gli ebrei funse generalmente da campo di transito alla volta dei campi di sterminio in Germania e in Polonia sebbene non si trovasse sotto la giurisdizione della Repubblica di Salò da esso transitarono per ragioni logistiche i convogli di deportati provenienti oltre che dall'area del litorale adriatico dal Veneto e segnatamente da Venezia la deportazione degli ebrei dalla Venezia Giulia avvenne in un contesto caratterizzato già dal periodo anteriore all'occupazione tedesca da forti tensioni nazionali e razziali le manifestazioni razzistiche contro gli slavi alimentate dalla politica disnazionalizzazione della popolazione della Venezia Giulia crearono un'atmosfera di predisposizione all'inasprimento anche dalla campagna contro gli ebrei che ebbe una recrudescenza tra la primavera del 1942 e quella del 1943 il dilagare della guerra partigiana in questa zona dopo l'annessione della Slovenia creò le condizioni per il precipitare della guerra interetnica che era stata anticipata dalla politica fascista la presenza nel litorale adriatico dopo l'insediamento dell'amministrazione tedesca del generale dell'ESS Odilo Globochnik come capo supremo dell'ESS e delle forze di polizia di quest'area non si deve probabilmente ai meriti specifici che agli occhi di Himmler e del vertice nazista egli aveva acquisito come esecutore dell'Action Reinhard in Polonia ossia come esecutore della soluzione finale contro gli ebrei polacchi ma la sua esperienza militare e alla sua inflessibilità politico-raziale contro tutti i nemici del Terzo Reich stando a quel manuale della lotta antipartigiana ma anche della politica delle nazionalità del Terzo Reich che è il cosiddetto Bandenkampf Globochnik doveva essere l'uomo giusto al posto giusto per gestire i conflitti di un'area che nel progetto geopolitico-nazista di ristrutturazione dell'Europa centro-orientale balcanico altro non era che un mosaico di nazionalità in questo contesto Globochnik con i suoi collaboratori offriva tutte le garanzie di esperienza e di efficienza che richiedeva la sprezza della lotta e la durezza del compito la radicalità con cui anche nel litorale Adriatico egli realizzò la soluzione finale non fu estranea la radicalità con la quale gli trasferì metodi da campo di sterminio nella lotta antipartigiana le prime deportazioni da Trieste sarebbero avvenute il 9 ottobre del 1943 il 20 gennaio del 1944 furono deportati perfini ricoverati all'ospizio gentilomo subito dopo la liberazione la comunità ebraica di Trieste denunciò la deportazione di oltre un migliaio di ebrei oggi grazie agli studi di Silva Bon di Liliana Picciotte di Marco Koslovic sappiamo che quella cifra oltre ad essere generica è comunque per difetto inoltre da Gorizia furono deportati 34 ebrei da Udine 37 da altre parti del litorale alcune altre diecine come per altre aree un censimento completo e preciso non lo avremo mai possiamo constatare soltanto l'impoverimento non soltanto demografico ma anche culturale che la decimazione delle comunità ebraiche ha comportato alla luce del livello culturale dei loro membri della loro partecipazione ai ceti professionisti e alla vita economica delle città una buona metà di tutti i convogli della deportazione partiti dall'Italia sono partiti da Trieste pure considerando che essi comprendevano anche deportati provenienti da fuori area litorale atriatico resta il fatto che questa stessa cifra sta a indicare la posizione strategica che la risiera di San Zab assunse tra i campi di transito sul suolo italiano ancorché i convogli fossero trasporti misti di ebrei e di altre categorie di perseguitati dai nazisti anche nel litorale adriatico la persecuzione delle vite degli ebrei fu accompagnata dalla sistematica spolezione dei loro beni come hanno bene documentato da ultimo i lavori della commissione Anselma e gli studi di Silvia Bon anche a questo proposito si verificò un vero e proprio conflitto di interessi tra le supersiti amministrazioni italiane e l'autorità tedesca dipendente dal supremo commissario per il litorale adriatico i funzionari italiani che avrebbero voluto applicare il decreto del 4 gennaio 1944 che ho citato in precedenza si scontrarono con la realtà di una situazione nella quale valevano soltanto le disposizioni tedesche ogni norma relativa al sequestro e alla gestione dei beni mobili e immobili degli ebrei fu avvocata dal supremo commissario che procedette attraverso una sua apposita sezione finanziaria e gli uffici della polizia tedesca alla liquidazione dei patrimoni ebraici i funzionali italiani come pure gli uffici funzionari e gli istituti bancari in quest'area divennero meri strumenti dell'amministrazione tedesca che se ne servì largamente per compiere le azioni esecutive necessarie a realizzare una colossale rappina un complesso meccanismo che portò alla distruzione o alla dispersione di patrimoni privati e di preziose raccolte di interessi culturali come la biblioteca della sinagoga di Trieste e che sfociò in un numero non quantificabile di saccheggi privati come rilevato dalla commissione Anselmi le autorità tedesche allo scopo di conferire una parvenza legale al saccheggio operato con la confisca dei beni procedetterà alla creazione di una società commerciale la Adria Gesellschaft destinata a commercializzare i beni ebraici dando luogo sono le parole della commissione Anselmi o multiforme sistema affaristico che coinvolse vari settori economici cittadini in tale modo lo strumento di confisca assunse una forte rilevanza nella vita di tutta la città attuando la liquidazione delle attività ebraiche ditte negozi appartamenti in forma capillare meticolosa rendendo assai difficile il loro camuffamento salvataggio e quindi molto estese le perdite se una conclusione è lecito trarre da queste vicende essa non riguarda soltanto l'ingente mole di profitti che autorità e privati tedeschi che individui ed interessi economici italiani trassero da queste ruberie la politica razzista del nazismo mirava con l'estipazione fisica degli ebrei a distruggerne anche la memoria come memoria di una parte della nostra stessa civiltà di cui anche il loro accanimento contro il patrimonio culturale ebraico di questa politica che sfociò in una delle più spaventose stragi della storia umana e nella violazione dei più elementari diritti umani la Repubblica sociale si fece consapevolmente corresponsabile ed è alla luce di questa corresponsabilità che dobbiamo considerarne il retaggio storico che non può appartenere ai valori della nostra cultura politica democratica né ai fondamenti del nostro vivere civile grazie grazie a tutti